riscoprire il calore della casa fare colazione con calma con le persone che ami dare il buongiorno ai vicini e non essere in ferie smart working così ce lo aveva frettolosamente definito il dirigente al momento della chiusura degli uffici per la pandemia disorientando tutti per settimane non avremmo più rivisto i colleghi presso il caffè insieme discusso nella pausa pranzo non avrei più approfittato del ritorno per sbirciare nelle vetrine o fare la spesa all'ipermercato certo non avrei più dovuto svegliarmi all'alba cercare parcheggio alla stazione finendo per fare l'ultimo tratto di corsa ed entrare tra felati in ascensore ma a che prezzo la mia routine era minata poi la decisione di affrontare il lockdown nella casa di campagna preparare i bagagli libri giochi dei figli traslocare con la casa l'ufficio e la mente e una volta qui verificare la connessione predisporre il portatile provare i primi collegamenti e diventare operativo e di colpo acquisire nuove abitudini gestendo gli orari a piacimento avendo più tempo per la famiglia per gli hobby per me fare la spesa nei negozietti del borgo riaccendere il vecchio forno dei nonni ritrovare le conoscenze dell'infanzia e scoprire nuovi vicini anche loro i smart working un'altra vita un altro mondo un'altra economia un altro modo di essere liberi con meno spese per i trasporti meno inquinamento meno tempo perso ma anche con la paura che cada la connessione la necessità di un confronto vero fatto di contatti e disguardi e la difficoltà nel separare la vita privata a quella professionale il terrore è vero di non avere più punti di riferimento di non iniziare e non staccare mai dal lavoro di non essere più nessuno la vertigine di chi è risucchiato da un vortice l'impressione di non essere più io poi di colpo la voglia di tornare a vivere la metropoli coi suoi monumenti i suoi megastore col suo traffico il suo rumore ma senza esagerare non so quale delle due vite preferirei una volta finita la pandemia perché so che entrambe mi mancherebbero perciò sogno un mondo nuovo in cui si possa lavorare da casa ma anche discutere dal vivo in ufficio in cui si possa viaggiare per non perdere i contatti umani ma ci si possa anche confrontare rapidamente col resto del mondo dalla propria scrivania sogno un lavoro anche sia più smart dello smart che possa conciliare umanità e tecnologia e che mi permetta di poter vivere con semplicità i quartieri cittadini e di ridare slancio ai paesi ai piccoli borghi sono più di 2000 anni che ci ripetiamo che la virtù sta al centro e la sfida del terzo millennio non è forse trovare quell'equilibrio piccoli